Tempo un po' in cambiamento sulla nostra regione col passaggio di un veloce e debole fronte che però già nella serata di venerdì sarà andato via, seguiranno nelle giornate di sabato e domenica correnti nord-occidentali più stabili, ci sarà però il ristagno di un po' di umidità nei bassi strati. Pertanto avremo una giornata di sabato con un cielo di prevalenza poco nuvoloso, maggiore variabilità in montagna nel pomeriggio e la possibile formazione di foschie o di nebbie sulla pianura e sulla costa nelle ore notturne, foschie e nebbie che potrebbero permanere poi anche per parte della giornata domenica, avremo sempre un cielo tra poco nuvoloso e variabile, non sono attese cambiamenti e sempre la possibile formazione di foschie e nebbie sulla pianura, soprattutto sulla bassa pianura e sulla laguna. Le temperature in lieve calo dopo i valori da record dei giorni scorsi, massime sulla costa intorno ai 12 gradi e in pianura intorno ai 14-15 gradi, lo zero termico in montagna fra 1800 e i 2000 metri. L'inizio della prossima settimana lunedì vedrà l'arrivo di un fronte nel pomeriggio che porterà piogge in genere moderate su pianura e costa, specialmente in serata e neve in montagna a partire dai 1200 metri circa. Martedì il fronte è già passato, rimane variabilità, sempre però con la possibile formazione di foschie e di nebbie su bassa pianura e costa. Buon fine settimana a tutti!